Crotone in fiamme e magazzini sulla strada statale 106. Sono andati in fiamme alcuni magazzini sulla statale 106 in località Poggio, Pudano, alle porte di Crotone. Questa mattina intorno alle 9.30 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono stati impegnati diverse ore per domare l'incendio che si era sviluppato appunto in diversi magazzini. Due squadre con un'autopompa, serbatoio ed autobotte hanno continuato a lavorare per domare le fiamme. Interessati dalle fiamme un ufficio di attività di autolavaggio ed un deposito ad uso privato. Adiacenti un'officina meccanica con all'interno autovetture ed un garage privato e sulla parte superiore appartamenti adibiti a civili abitazioni. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme agli appartamenti e all'officina. Il denso fumo nero ha interessato anche la statale 106, senza però gravi problemi di viabilità. Sul posto anche la polizia stradale ed una volante della questura per gli adempimenti del caso.